A l'uno e un quarto di notte l'arrivo di Angelo Siniscalchi nel ritiro della Salernitana. Il primo Salernitano alla Salernitana. Angelo, due battute. Ma, aspetti... 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 Giusto una battuta della Salernitana al ritiro della Salernitana. Emozioni e obiettivi? Un po' stanchino. Magari ne riparliamo domani con più lucidità. Ci tenevi tantissimo a tornare a te? Tantissimo, sicuramente. Ci tenevi tantissimo a tornare a Salernitana. Assolutamente sì. Grazie.